Cianelli che è vero si è spostato ed è accanto a Gianna Lesi, Ettore stai lavorando troppo? Sì, sto correndo davanti e dietro, qui c'è Gianna Lesi, abbiamo appena parlato con Sylvester Stallone e un tuo amico dice che farà un film sulla Formula 1, ci saranno anche degli attori veri, dei veri piloti, ci sarai tu per caso? Ma sai, per il momento per lui è molto importante di preparare qualcosa di bene e sono convinto che lo farà e dopo vedremo, è ovvio che abbiamo un rapporto molto stretto. Senti, tu sei anche un grande amico di Michel Schumacher, ma ieri hai detto che hai cercato di rubargli la macchina per la riabilitazione, che cosa hai fatto? No, gli ho chiesto se me la prestava e lui ha detto prestare mai, solo affittare, allora il prezzo è troppo alto, l'ho lasciato perdere. Grazie Gian, se ci riferivamo all'incidente avuto ieri da Gianna Lesi, a voi. Lesi, nonostante la contusione al Malleolo è ora in buona forma.